Musica Revocare l'ordinanza di istituzione della zona traffico limitato nel centro storico di Sassari è quanto chiede Forza Italia al sindaco Nicola Sanna. La ZTL va riformulata partendo dalle richieste e dai suggerimenti di residenti ed operatori commerciali, premi utenti del cuore della città. Sul punto il consigliere comunale Emanuele Alivesi ha presentato un'interpellanza. Un ultimo atto richiesto al primo cittadino? Non solo. Il forte disagio cresciuto negli anni tra residenti ed operatori dell'area blu a seguito del fallimento e soprattutto per l'abbandono del progetto del centro storico sassarese, dice Alivesi, segna oggi la necessità di procedere con la revisione delle condizioni, degli accessi, degli orari e della gestione del progetto della ZTL, completamente abbandonato dall'amministrazione. Un centro storico sempre più degradato. Non c'è però solo la revoca della zona traffico limitato. Riteniamo opportuno procedere alla costituzione di un progetto ZTL 2.0, prosegue Alivesi, con l'apertura di un vero e proprio libro bianco per la città antica, nel quale residenti, commercianti e cittadini tutti possano in piena condivisione formulare i loro consigli e le loro proposte. Un sistema di lotta biologica contro gli insetti nocifichia come protagonista un batterio, il brevi bacillus laterosporus, il cui potere pesticida è stato studiato e dimostrato da alcuni ricercatori dell'Università di Sassari, coordinati dal dottor Luca Ruiu. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Report del gruppo Nature, mentre l'Ateneo sassarese ha firmato il brevetto internazionale per la proprietà della ricerca. L'importanza della scoperta può avere ripercussioni su vasta scala. La necessità di nutrire una popolazione globale in continua crescita richiede un incremento delle produzioni agrarie e zootecniche sulla superficie limitata del nostro pianeta. È perciò necessario sviluppare tecnologie che consentano di aumentare le rese di produzione in linea con i principi di salvaguardia ambientale. La tutela delle colture e degli animali in allevamento dai parassiti nocivi deve basarsi sempre più sull'uso di pesticidi a basso impatto ambientale. In linea con questo approccio, la comunità scientifica e industriale è da anni impegnata nella scoperta e nello sviluppo di nuovi biopesticidi naturali. Da queste motivazioni è nato lo studio dell'Università di Sassari, portato avanti da un gruppo coordinato dal ricercatore di entomologia Luca Ruiu, è composto dai dottori di ricerca Maria Giovanna Marche, Maria Elena Mura, Giovanni Falchi. I ricercatori hanno scoperto nuovi fattori di virulenza di origine proteica prodotti dal batterio Brevi Bacillus che colpiscono gli insetti nocivi dopo ingestione. Letali per i parassiti delle piante, dunque, ma innocui per l'uomo e per gli animali a sangue caldo. Il 2016 si era chiuso per l'aeroporto di Alghero con un crollo di movimenti nei 12 mesi del 16,2% e di meno 19,8% di passeggeri. Ma il 2017 non si è aperto con un passo diverso. Dopo i dati di gennaio, quelli di febbraio di S Aeroporti confermano la curva discendente, 30.000 passeggeri in meno con un caldo del 36,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e con oltre il meno 90% dei passeggeri internazionali certificano la picchiata inarrestabile dell'aeroporto di Alghero. Il dato è ancora più preoccupante e impietoso se paragonato agli altri Scali Sardi, dove l'aeroporto di Elmas tiene con un leggero caldo di circa il 3% e il Costa Smeralda cresce in modo significativo con un quasi 15% in più di movimenti e un dato che cresce per i passeggeri di oltre il 5%. Nel frattempo, Pigliero e Deiana continuano a stare alla finestra assieme a tutto il centro-sinistra ai sindaci dei centri più importanti e alla classe dirigente della provincia di Sassari. Commenta così Marco Tedde, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, un atteggiamento sconsiderato che dimostra la debolezza e l'ineadeguatezza di molti di coloro che si sono proposti per tutelare gli interessi di un territorio oramai martoriato. Questi sono solo gli ultimi effetti degli errori madornali di Pigliero e Deiana del trasporto aereo, conclude Tedde. Per l'aeroporto di Alghero il 2016 è stato un anno di passione per i noti fatti che hanno contraddistinto e segnato l'andamento in picchiata del traffico sullo scalo catalano. L'arrivo di F2I al momento non sembra aver portato le novità, la ripresa sperata sullo sfondo e neanche tanto. L'arrivo imminente della stagione estiva, che allo stato dell'arte non sembra prospettare un destino più rosio dell'annata precedente. La Dinamo Banco di Sardegna cade ad Avellino al cospetto di una sidiga sconcreta e agguerrita sospinta da due ex che hanno lasciato il segno sulla gara, Marcus Green e David Logan. I giganti hanno issato bandiera bianca solo nell'ultimo periodo, complice sicuramente la giornata non proprio esaltante al tiro di diversi giocatori. Comunque sia la contesa ha visto lampi importanti di gioco che hanno permesso alle essi e ai compagni di riportarsi a ridosso e gli Irpini fino almeno uno. Giocate di classe e di lupi hanno fatto sì che la sidiga svincesse la partita. I biancazzurri sono volati in Francia, dove mercoledì giocheranno gara 1 dei quarti di finale di Champions League contro il Monaco. Ci si attende una ripresa pronta per poter continuare l'avventura europea. Ci sono tutte le componenti e l'entusiasmo giusto unito alla voglia e rivalsa dei giocatori che sanno benissimo di avere il loro destino in mano, con un occhio anche al rush finale di un campionato sempre più equilibrato e sempre più indecifrabile. Gara 1 dei play-off di Serie B femminile va ad appannaggio del Sant'Orsola Team 98 che batte per 54 a 43 lo spirito sportivo Cagliari al termine di una partita decisamente equilibrata fino al secondo tempo, quando Capitan Loriga e compagni hanno costretto le ospite a marcare solo 13 punti, con una fase difensiva sfissiante e capitalizzando punti e contropiedi che alla fine sono risultati vincenti. Sugli scudi Loriga con 21 punti a referto e Diana che ha dominato sotto le plance e dalla fine il suo bottino è stato pari a 17. È solo gara 1, dice Coccio Carlini e predica prudenza in vista di gara 2 che si giocherà a Cagliari tra due giorni. Si fa leva sulla voglia di arrivare delle giovani cestiste sassaresi che non si sono certo risparmiate per raggiungere l'obiettivo. Si tratta di un'occasione importante per riportare la blasonata squadra sassarese nel basket di serie superiore e sfruttare il bacino al settore giovanile e l'eroarancio per un rilancio importante del basket al femminile. Si è conclusa ieri presso le strutture dell'hotel Pausania Inattempio dopo tre giornate intense il corso per navigatori e piloti dedicato ad Alberto Ganau, un'iniziativa che delinea il futuro dell'automobilismo sardo organizzato dalla LRT Sardinia in collaborazione con il team Autoservice Sport, la S Antincendio e FICR Sardegna. Tra i partecipanti molti navigatori e piloti isolani notti appassionati di rally che hanno colto l'occasione per aggiornarsi e imparare nuove tematiche. Una quarta edizione che ha registrato numeri importanti. I partecipanti hanno presentato la richiesta per sostenere l'esame di prima licenza ad esaminare navigatori e piloti Giuseppe Pirisino e Nicola Imperio. Ma sentiamo Giuseppe Pirisino. Siamo arrivati già alla quarta edizione di questo corso navigatori e piloti dedicato a un carissimo amico Alberto Ganau. Corso che ormai è diventato di livello internazionale con relatori molto importanti e che arrivano da tutta la penisola. Tra i numerosi relatori il campione Carlo Cassina che ha illustrato una relazione sulla logistica nei rally e che abbiamo sentito. Il corso ha sempre ricevuto un ottimo riscontro da parte dei partecipanti. Anche quest'anno c'è 70-80 persone e ci fa molto piacere perché comunque vuol dire che facciamo una cosa simpatica, che è ben accetta da tutti e che tutti gli anni comunque riscuote un ottimo successo. Grazie.